È un patto per il futuro di questa città ed è un patto che propongo ai cittadini con la mia persona. Intendo essere, se sarò eletto, il sindaco dei cittadini e sempre a disposizione dei cittadini, con un rapporto diretto, quotidiano e costante. Così Ennio Rucco, oggi vice sindaco di Montecatini, ha presentato la propria candidatura a primo cittadino. Lo ha fatto al bar Bull, nel cuore del quartiere di Casina Rossa, dove è cresciuto, a sostegno della sua corsa a sindaco, il Partito Democratico e la lista civica Montecatini per Rucco sindaco. Cura della città, legalità e sviluppo, i punti cardini del programma di Ennio Rucco per il futuro di Montecatini. La manutenzione della città e la legalità, secondo un patto collettivo di rispetto convinto delle regole da parte di tutti, sono i due presupposti per favorire lo sviluppo e per favorire la crescita di Montecatini. Un tema centrale e imprescindibile per questa città è il settore termale. Lei dice, proseguiamo sul percorso che è stato fino ad oggi intrapreso, rimane comunque l'intoccabilità dei beni principali, degli stabilimenti termali principali che devono rimanere in mani pubbliche. Ma allora, su questo punto noi siamo contrari ad un'asta di vendita della società e quindi di tre secoli di patrimonio della nostra città. Abbiamo evitato il peggio affrontando una situazione debitoria quasi impossibile da affrontare. Abbiamo creato le condizioni per favorire investimenti da parte di soggetti privati, quindi ben vengano privatizzazioni di rami d'azienda, di settori aziendali e quindi di gestione degli immobili con investimenti privati perché devono essere i privati a fare l'offerta termale nei vari ambiti, farlo con investimenti che possono essere scomputati dalle locazioni ma secondo una regia saldamente pubblica perché parliamo della storia della città. Si chiama Montecatini Terme la città, quindi i presupposti sono questi, ora ci sono le condizioni e ci sono diversi privati pronti a investire.